Se solo vuole rispondere alla faccenda di campagna, la Lega festeggerà campagna nel Salernitano a fine settembre, lei come la vede questa iniziativa? È un partito politico che si sta espandendo, è chiaro che ha nella sua intenzione attraverso le alleanze con ex Missini, Casa Pound, Forza Nuova e destra anche Iversiva, quello di poter cercare di attecchire al Sud, quindi bisogna rispondere con la politica, senza sopravvalutare e senza sottovalutare, non esprimendo solamente sentimento di repulsione di fronte alle politiche xenofobe, ma mettendo in campo l'alternativa, perché se non si mette in campo l'alternativa a livello nazionale, sto parlando ma potrei dire anche a livello europeo, da un punto di vista economico, politico, sociale, culturale e etico, la Lega rischia di espandersi, perché Salvini, l'ho sempre pensato, non va sottovalutato dal punto di vista politico e dal punto di vista comunicativo, se solo pensiamo in questi tre mesi che lui ha avuto l'abilità di apparire come il Presidente del Consiglio del nostro Paese e come il partito che ha il doppio dei suoi voti nell'alleanza e nel contratto, appare il partito di minoranza all'interno della coalizione di governo, quindi chi sottovaluta Salvini fa un grande errore, ma noi lo sconfiggeremo politicamente. Lei stamattina invitava Di Battista a rompere il contratto di governo con la Lega? Guardate, è molto semplice, anche se apprezzabile, attenzione, quello che dice Di Battista e altri che prendono le distanze, però sai, è come se io prendo le distanze, il nostro piccolo, in Consiglio Comunale, dalle politiche di Moretto, di Marco Nonne, poi ci sono alleato, molto facile dire Salvini pose sordo, cioè caccia i 49 milioni, però vai a braccetto con Salvini con la mano destra tesa alzata, perché di questo stiamo parlando, quindi se Di Battista ha coraggio e autonomia, rompe il contratto di governo con la Lega.